La mia vita lavorativa da quando è iniziata questa pandemia è cambiata nel senso che se prima eravamo come medicina, avevamo un target di pazienti, soprattutto anziani, pluripatologici, tante malattie, ora l'età media dei pazienti spesso si abbassa, si è abbassata, a volte troviamo anche dei nostri coetanei. E l'altra problematica è che se prima erano malattie cardiovascolari, apparato cardiocircolatorio, ora sono soprattutto le correlate al covid, quindi malattie dell'apparato respiratorio. Io e mia moglie siamo entrambi infermieri e la cosa che è cambiata maggiormente è stata quella più dura un attimino, è stato spiegare ai bimbi perché di certi comportamenti, dalla mascherina, dentro anche a scuola, insomma, però anche se loro sono stati molto bravi, sono più bravi degli adulti a volte. È cambiato molto il rapporto con i pazienti perché essendo una medicina e spesso anziani, prima l'ingresso era non soltanto consentito ma anche auspicato perché tanti pazienti hanno una cerchia familiare che gli sta molto vicino, alcuni hanno anche delle assistenti personali che hanno il piacere di fare la notte, di assistere i pazienti fino all'ultimo. Con il covid questo è venuto meno e quello che abbiamo fatto per sopprire a questa mancanza sono state le videochiamate e non ultimo, anche in accordo con quelle che sono le linee guida dell'azienda, il permettere ai parenti, pur essendo reparto covid, in casi estremamente gravi di dare l'ultimo saluto ai pazienti. Di esperienze particolari ce ne sono tante, abbiamo avuto marito e moglie nello stesso reparto, abbiamo avuto un paziente ricoverato qui, un altro in un altro ospedale, però quello che a volte mi segna tanto, è stato tanto, è aver avuto ricoverato anche dei nostri colleghi qua da noi. Il consiglio che mi sento di dire è quello di seguire quelle che sono le indicazioni delle persone che lavorano con la medicina, insomma, in ambito sanitario, il consiglio è quello lì.